Ma come? Ma come? Ma che ha fatto l'Inter? Che ha fatto l'Inter? Che ha fatto l'Inter? Io non ho visto video, non vedo video di incompetenti, ma ho letto solo titoli di partita giocata da due squadre inguardabili, riferendosi a Juventus e Napoli di ieri, due cantieri aperti, più noi che loro, ma sono due cantieri aperti comunque. E l'Inter cosa ha fatto? Col City catenaccio contro piede, contro il Milan, parliamo del Milan non del City, catenaccio contro piede. Col City vi è andata bene, perché loro sono stati poco lucidi e non sono in condizione, tant'è che si è visto anche contro l'Arsenal, che in un tempo, in 11 contro 10, hanno fatto gol al 97esimo. E il City, quando vi ho detto l'altro giorno che non sono in condizione, tanti Interisti di merda che mi sono venuti a rompere il cazzo, forse qualcosina, no? Dovete anche guardarvi un po' la Premier, un po' altri campionati, non solo le vostre squadre di merda, e non parlo solo gli Interisti, parlo a tutti anche i miei tifosi, ok? Dovreste guardare anche un po' ampliare la mente, no? Ampliare la mente, e purtroppo non siete in grado di fare questo. Ma va bene. Oggi il Milan ha vinto meritatamente 2-1, 2-1, ma adesso io vorrei dire anche qualcosa ai miei tifosi, no? Tiago di qua, Tiago di là, vergogna, 3-0, 0-0, vergogna di qua, vergogna di là. Tiago Motta è da quest'anno, è da un mese che ha la squadra al completo, quasi più o meno, e gli state rompendo il cazzo. Quando si vede già un qualcosa, dopo 5 partite si vedono comunque dei miglioramenti di partita in partita, e solo chi non riesce a vedere non ci sono. Ma ci sono dei miglioramenti, certo che c'è tanto da migliorare. Ma Tiago ha una squadra, la Juventus, con mezza squadra, mezza rosa, completamente cambiata rispetto all'anno scorso, e l'altra mezza che arriva da 3 anni di non calcio, che sta facendo vedere qualcosa e voi volete già rompergli il cazzo. E Simone Inzaghi che praticamente ha la stessa squadra ed è lo stesso contesto da 4 anni? Cosa dovrebbero dire gli interisti? Che al di là dei risultati comunque non è che stia facendo chissà che partita l'Inter in questo inizio di stagione. Cosa dovrebbero dire? Poi vinceranno il campionato perché sono ancora, secondo me, leggermente superiori agli altri, ma semplicemente perché hanno più consapevolezza. Però dovesse iniziare a cedere questa consapevolezza, non adesso per un derby perso ovviamente, ma col tempo non dovesse arrivare più risultati, probabilmente una volta che c'è della consapevolezza e c'è anche un po' l'ambiente, possono uscire anche le altre squadre. L'unica, il punto più importante sul quale può puntare l'Inter è la sicurezza e il fatto che arrivano da uno scudetto vinto e che sono ancora, siccome è la squadra, meno scarsa del campionato. Parliamo, diciamo così, meno scarsa più che più forte del campionato italiano. Tutto lì. Il Milan ha vinto 2-1 nonostante alcuni pipponi che è in squadra. E Fonseca, tra l'altro, che poi hanno vinto grazie alla punizione, grazie al gol di Gabbia. Fonseca, leva Morata, che non è perché a me piace, ma oggi è indiscutibilmente stato uno dei migliori in campo, Alvaro Morata. E metti Okafor che ha fatto più danni che altro, si è mangiato due gol allucinanti, l'ultimo che per carità era la fine, ma, cioè, vabbè, Leao, Leao, ragazzi, Leao, irritabile. Cari milanisti, volete il bene del Milan? Vendete Leao, vendete Leao. Leao è un giocatore irritabile, un giocatore insulso, veramente. È più forte, era più forte stiga ribbia di Leao, cazzo. Cioè, solo la corsa ha questo. Ignoranza calcistica ai massimi livelli. Tecnicamente per me non è neanche questo giocatore eccelso. Oggi, i due, uno dei due non mi piace a me. Morata ha fatto un po' la prima, un po' la seconda punta, ma comunque si sono scambiati molto. Cioè, Morata sicuramente era quello che girava di più, perché Morata, a differenza di quello che dicono tanti, mi ha detto lì, hanno sempre apprezzato Morata, perché è un giocatore non solo che gioca bene, ma che fa giocare bene chiunque giochi insieme a lui. Infatti, Abraham oggi ha giocato bene, anche se a me non piace Abraham. Però hanno giocato bene insieme. Con questo 4-2-4, che andavano subito a pressare l'iniziozione loro, per poi trasformarsi in un 4-4-2 con il pressing difensivo, barra offensivo, ma con il pressing ultraoffensivo il Milan pressava con un 4-2-4. Andavano proprio a prendere i difensori in fase di impostazione. L'Inter ha sofferto tanto nel secondo tempo, soprattutto nel secondo tempo, questo pressing forse nato del Milan, fatto benissimo. E poi i bravi centrocampisti che comunque seguivano, seguivano appunto proprio completamente i propri marcatori, i propri giocatori da marcare. Parlo di Fofanà, soprattutto, che in fase di contenimento, siccome ha fatto un ottimo lavoro. Quindi, bene il Milan, bene il Milan. L'Inter, di Marcos, come è da salvare? Lautaro Martinez. Noi parliamo di Vlaovic, ragazzi. Che, al di là di tutto, Lautaro Martinez, a differenza di Vlaovic, fa un lavoro per la squadra, cosa che ha fatto anche Morata. E Morata, poi si dice sì, ma non ha giocato da prima... Ma anche giocasse prima punta, con il gioco che vorrebbe fare Motta, o che comunque starebbe facendo e che sta cercando... Morata sicuramente ha più senso di Vlaovic, faccio un esempio, ma io non l'avrei rivoluto, però questo è indietà, lo sapete bene, quindi sto coerente con la mia idea. Però, Lautaro, la stessa cosa. Lautaro non fa gol, però quello che fa lui, Vlaovic non lo fa mai nella vita. Però, se noi andiamo a vedere un attimo, a livello realizzativo, Lautaro è a zero gol quest'anno. Vlaovic, quantomeno, ne ha fatti due col Verona, ma ne ha fatti due. Lautaro, zero. Se c'è un caso in casa Juventus, che è Dusan Vlaovic, dovrebbe esserci un caso in casa Inter, di nome Lautaro e di cognome Martinez, in teoria. Ovviamente non ci sarà, perché poi anche Zazzaroni, Sabatini, questi qua, fanno tutti questi scandali in casa Juventus quest'anno perché non c'è il loro amore, e quindi cerco di mettere ancora più pressioni a Tiago Motta. Spero che Tiago Motta abbia veramente le spalle larghe, ma sono sicuro di questo, e speriamo appunto non mi sventisca di uscire da queste situazioni qua, da questa pressione, e poi riuscire a fare il suo calcio, ottenendo anche ottimi, se non grandi risultati, con quelle prestazioni che vorrà fare. Veramente per metterle in culo tanta gente. Io spero veramente fino in fondo questo, e spero veramente che Tiago faccia il suo dovere. Ecco, sa lavorare perché si è visto in queste prime giornate, però, ripeto, ci vorrà tempo e pazienza. Non dico che vinceremo tutto con lui, però lo spero, questo lo spero sicuramente, ma la speranza è tifoso, perché oltre che alle analisi tattiche comunque rimango tifoso, ed è giusto così. Detto questo, sarebbe stato meglio un pareggio, forse, vabbè, poco cambia, e sta di fatto che cazzo, si parlava di Esonor di Fonseca, e Fonseca oggi fa, fornisce questa prestazione del suo Milan, impressionante, perché a livello di palleggio, di pressing, veramente ottimo, veramente ottimo il Milan oggi, veramente ottimo, quindi, e l'Inter, sì, ogni tanto, tecnicamente, ovviamente, non sono scarsi, qualcosina, l'hanno fatto, però, alla fine, come col City, aspettano, hanno aspettato il Milan, e sono ripartiti, cioè, non è che, abbiano fatto chissà che calcio, questo calcio dominante, no? Ma va bene così, va bene così, non lo so, Tiago, viene criticato, massacrato, e quant'altro, non so cosa, veramente bisognerebbe dire, di Simone Inzaghi, dato che, appunto, è in questo contesto, in questo ambiente, da parecchi anni, 4, 4 anni, e in questi 4 anni, leviamo questo, 3 anni, mi pare che sia, ha vinto uno scudetto, ha fatto una fine di Champions, ma non l'ha vinta, ha vinto uno scudetto, con la squadra, che comunque era la meno scarsa del campionato, e avrebbe dovuto vincere, 3, eh sì, 3 Champions, 3 scudetti di fila, dopo Antonio Conte, e non l'ha fatto, allora, per me, rimane, sopravvalutato, come allenatore, poi, ripeto, vincerà quest'anno, lo scudetto, quant'altro, ma a me non piacerà mai, se non inzaghi, ha, è migliorato, in diverse cose, va detto, però non piacerà mai, questo, questo poco, ma sicuro, detto questo, ripeto, il Milan, ha vinto, 2 a 1, nonostante, il pippone di, Leao, il pippone, ovviamente, il pippone, contestualizziamo, però, giusto per farvi capire, di Okafor, quindi, nonostante, questi giocatori qua, è riuscito comunque a vincere 2 a 1, meritatamente, quindi, bene così, quindi, la grande Inter, la squadra più forte, del mondo, che ha dominato il City, secondo qualcuno, che ha fatto una grande partita, contro il City, secondo qualcuno, dopo 5 giornate, è un punto da noi, e l'Inter, ha veramente la consapevolezza, e la costruzione, la struttura, e aveva la struttura, per vincere tutte e 5 le partite, o comunque per fare 4 vittorie, o un pareggio, ecco, quindi, sarebbe dovuto essere già, no, in fuga l'Inter, e invece, è così, ma va bene, io ripeto, quest'anno la Juventus non ha l'obbligo di vincere, quindi non sono preoccupato per quello, sono preoccupato più che altro, per i tifosi che abbiamo noi, quello sì, va bene, detto questo, io vi auguro, buona salita a tutti, sembra comunque fino alla fine Forza Juventus, che ha fatto l'Inter, che ha fatto l'Inter, che ha fatto la grande Inter, no, Juventus e Napoli, squadre scandalose, vergognose, vabbè, ma chi non capisce un cazzo di calcio, può dire queste cose qua, c'è poco a fare, inutile girarci attorno, bisogna andare un attimo nei dettagli, parlare un po' calcisticamente, invece, va bene, così, ma no, ma poi, io ripeto, ognuno vede il calcio come cazzo vuole, io adesso, a parte, diciamo, le battute, che vabbè, ci stanno, però ognuno veramente vede il calcio come vuole, io non pretendo che tutti siano qui, a parlare di tattica, perché la tattica è una materia, deve piacere, perché se no, te ne freghi il cazzo, no, qui non sto qua, però quantomeno, quelli che non ne sanno di tattica, che non la sanno, che poi ripeto, io non è che ne so, cioè, me la cavo, tra virgolette, ma ho tantissimo da imparare pure io, io mi metto sempre in gioco, lo ripeto, ma, qualcosina di più rispetto ad altri, penso di saperla, però quantomeno, chi appunto non parla di tattica, non la si butti ogni volta, sulle chiacchiere da VAR, sulle stronzate, con il calcio vergognoso di Uwe Napoli, tutte ste robe qua, calcolando appunto, che sono due squadre, che sono in piena ricostruzione, anzi, da noi è proprio una vera e propria rivoluzione, non solo di uomini, ma anche proprio di filosofia, vabbè, detto questo, buona notte a tutti, fino alla fine, sempre e comunque, forza Juventus!